Difendiamo l'Ario. Comosub e altre nuove associazioni che vivono il lago si trovano domattina alla Darsena di Villageno per ripulire l'Ario e sensibilizzare i cittadini sul tema. L'iniziativa ha il patrocino del Comune di Como. 50 sub si immergeranno nel lago tra i 5 e i 10 metri di profondità nella fascia compresa tra Largo Ramelli e Villageno, recuperando i rifiuti depositati sul fondo. Il ritrovo è in programma alle 8.30 alla Darsena. Le operazioni di pulizia andranno dalle 9 alle 11.30. A mezzogiorno appuntamento aperto a tutti nel salone della Darsena dove l'associazione Proteus parlerà dello stato di salute del lago. Alle 13 si termina con un aperitivo e il ringraziamento ai partecipanti. Sono coinvolti nell'iniziativa, oltre a Comosub, anche il circolo Annie Bonny, il centro sub Nettuno, Comonuoto, Diving Center Como, AKC, Associazione Kayak Como, Anaconda Como, DNA Sub Academy, Proteus e Soccorso Comas Conlus. I rifiuti recuperati dal fondale saranno accumulati in alcuni punti individuati e portati via da Aprica per lo smaltimento. Durante la pulizia alcuni sub scatteranno foto subacquee in modo da poter mostrare il reale stato di mantenimento del lago anche a chi non è abituato a vedere sotto la superficie. Grazie a tutti.